Una progressione inarrestabile, il contagio dilaga in Campania e viaggia ormai a quattro cifre, centrando un nuovo record negativo. Sono 1.127 nuovi casi registrati nelle ultime ore dall'unità di crisi per la stragrande maggioranza asintomatici. Nel bollettino figurano anche altre nove vittime negli ultimi cinque giorni e 317 persone guarite. Per quanto riguarda i posti di terapia intensiva, su 110 posti letto disponibili sono 66 quelli occupati, ma la pressione sugli ospedali della Campania resta particolarmente alta. Edeluca vara subito la linea dura, stoppa le lezioni in presenza per le scuole primarie e secondarie fino alla fine del mese, sospese anche le attività per gli studenti universitari, ad eccezione degli iscritti del primo anno. Vietate feste e cerimonie civili e religiose, sia all'aperto che al chiuso, con invitati estranei al nucleo familiare. Stoppa anche le attività di circoli ludici e ricreativi, mentre per quelle di ristorazione scatta il divieto di vendita con asporto dalle 21, mentre resta consentito il delivery senza limiti di orario. Nei comuni dove i contagi sono alti sale la tensione, ad Arzano commercianti in rivolta dopo il mini lockdown con la chiusura di scuole e negozi, gli esercenti hanno bloccato la strada. Accettiamo il lockdown, accettiamo il paese in zona russa, però non accettiamo che solo i commercianti devono restare chiusi, però il paese è aperto. Noi non vogliamo fare nessuna guerra, noi vogliamo essere ascoltati, ma purtroppo qua come vedete non c'è nulla, nessuno ci considera, siamo un paese morto, un paese a parte, dimenticato, quindi l'unica soluzione è tutto questo. Noi piccoli commercianti che di questo viviamo e già veniamo da un periodo molto, molto, molto sacrificato, non è in modo di risolvere i problemi questi qua.